Due giorni dopo l'inferno in Pineta, sono tante le fotografie che è possibile, anzi doveroso, scattare. Una è questa, la realtà, quello che si vede, quello che resta. L'altra riguarda le possibili, eventuali responsabilità, politiche, istituzionali, naturalistiche. Le opinioni diverse cominciano già a partire dall'origine di questo bosco. La Pineta Danunziana è nata per mano dell'uomo o della natura? C'è anche uno studio che ipotizza che il nome pescara, che già compare all'inizio dell'epoca non govarda, possa derivare dal greco antico, dove pescos significa pineta. Quindi niente a che fare con i pesci e col mare? No, no, questa è un'ipotesi. Se fosse stato piantato dagli spagnoli, ma il pino avrebbero piantato, semmai, il pino domestico, perché è esso che serve per il legname delle navi, essendo dritto. Il pino alle pensi, se voi vedete com'è, è assolutamente inadatto. Ma se anche fosse stato artificiale, sono passati cinque secoli. Qualcuno dice che è colpa degli ambientalisti se non si è fatta manutenzione. Ma non scherziamo, se non è stato... Le responsabilità risalgono già diverse amministrazioni fa, sia ben chiaro che qui non è una responsabilità unica. Non è stato mai nominato un direttore, non è stato mai nominato un comitato di gestione, non è stato mai fatto un piano, un progetto di tutela, di controllo. Io mi sono sempre domandato, ma una riserva naturale non dovrebbe avere un minimo di sorveglianza? E proprio sulla vigilanza anti-incendio è intervenuto oggi il Movimento 5 Stelle, che ricorda come il 28 giugno scorso sia stata approvata una mozione specifica alla quale non è stato mai dato seguito. Allora, questo servizio chiaramente si sarebbe appoggiato a delle organizzazioni no profit con le adeguate e certificate competenze sia in materia ambientale che naturalistica ed era stato immaginato, strutturato in una maniera composita, cioè attraverso le competenze di queste associazioni. Sarebbe stato possibile un monitoraggio continuo anche per quanto riguarda la tutela della flora e della fauna, della biodiversità all'interno della riserva, proprio alla luce dei tanti episodi che già nei mesi scorsi, nei mesi di maggio e giugno, c'erano stati e che avevano allertato anche lo stesso prefetto che in primis aveva detto che era indispensabile alzare il livello di attenzione sulla riserva anche attraverso videocamere o fototrappole, ma anche quella sollecitazione è rimasta senza alcun seguito. Immagino che esistano dei sistemi di sensori, per esempio, che subito individuino l'eventuale focolaio e lanciano l'allarme. Assolutamente sì, infatti il nostro era un indirizzo che era stato immaginato in una certa maniera che avrebbe potuto coprire più aspetti della questione sicurezza all'interno della riserva.